mamma mia che emozione abbiamo il tempo di conoscerci ciao mio marito adesso andiamo a casa andiamo andiamo grazie mille grazie per l'ospitalità la ricotta per la torta l'avete l'abbiamo presa fresca ieri fermo a posto mi metto il giugnotto andiamo a fare la spesa andiamo a fare ne so tutto siamo qui in cucina prontissime insieme ad angela la signora domenica abbiamo detto che dobbiamo preparare questo pranzo cominciamo dalla fine cioè dalla torta perché perché richiede un momento più periodo più lungo di cottura quindi la nostra torta ricotta e cioccolato e poi naturalmente una volta infornata faremo tutto il menù e dall'antipasto al secondo che dire grazie grazie angela grazie mille io proprio mi sono sentita domenica grazie ancora di nuovo grazie mille ciao ciao ciao